Festa grande a Molinare, in provincia di Benevento, dove Anna Maria Cappozzo, per tutti nonna Anna Maria, festeggia i 110 anni, classe 1911, ha festeggiato anche il traguardo di donna più longeva del Sanio, nonché la seconda della campagna e la tredicesima di tutta Italia. Alla sua festa di compleanno presenti soli parenti stretti per ovvi motivi legati alla pandemia da coronavirus, ma tanto affetto ricevuto anche dall'altra parte del mondo, da nipoti e pronipoti. Parte degli auguri per lei sono giunti perfino dall'Argentina, dove vive una parte della sua famiglia. La nostra piccola comunità è una grande famiglia, quindi questo giorno speciale ci vede tutti coinvolti emotivamente, ha commentato il sindaco di Molinare, Giuseppe Adabbo. Tagliare un traguardo del genere significa che questo territorio ha qualcosa di magico. Se penso poi che negli ultimi vent'anni a Molinare sono stati festeggiati 18 centenari. Credo che sia la conferma dell'unicità di questo territorio. Grazie 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 Grazie